Come ti chiami? Carmelo. E che cosa studi qui? Ingegneria aerospaziale. Senti, hai un sogno? Il mio sogno sarebbe quello di riuscire ad arrivare a lavorare all'ESA, però cercando di non abbandonare appunto la mia passione che è la musica e il canto corale. E secondo te ci può essere un legame, un collegamento? Tu lo riesci a vedere? Ma semplicemente la musica non è quello che possono pensare tutti quanti, soltanto qualcosa di improvvisato, qualcosa che non ha una base logica vera e propria, ma possiamo trovare appunto anche una base matematica nella musica. Ma in ogni caso, come ingegnere, non vorrei soltanto spingere... Vivere di numeri. Vivere di numeri, ma anche, come si dice, non abbandonare appunto le mie passioni e vivere anche di emozioni. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Cao Ling, il mio nome è italiano e è Vito. E quanti anni hai? Ho 25 anni. Arrivi da dove? Da Shanghai, Cina. E sei qui per studiare al Politecnico? Sì, ho già finito lo studio, mi sono laureato a marzo, adesso aspetto l'azienda per assumere il mio, io. E intanto, mentre aspetti, canti? Perché questo coro è creato da novembre scorso, io partecipo dall'inizio. Senti, la tua passione per la musica, per l'ingegneria e per la musica, si può sposare? Si possono sposare queste due passioni? Sì, certo, perché da bambino sono innamorato a musica classica, anche opera lirica. Ho scelto di andare in Italia, anche perché è casa di opera lirica. Poi Ciao, come ti chiami? Clelia E quanti anni hai? Quasi 20 Che cosa vuoi fare, da grande? Sono iscritta in ingegneria biomedica, qui al Politecnico, quindi speriamo ingegnere biomedico. Senti, la tua passione per la musica l'hai conosciuta qua, oppure la porti da fuori? La porto da fuori, tra virgolette, perché non sono di qua, vengo da Catania, quindi già da prima ho iniziato a canticchiare giù e poi quando ho saputo che ci sarebbe stato questo coro qui al Politecnico, allora mi sono fiondata, diciamo. Senti, e perché ti sei fiondata al coro del Politecnico e non al casting di X Factor? No, vabbè, perché comunque è una cosa un po' più semplice, poi anche il fatto di essere collegato con lo studio qui al Poli è una cosa anche carina come momento di pausa per staccare dall'impegno in ingegneria e in studio. Ok, grazie mille. 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 Grazie a tutti.